Questa storia è toccante, viene toccante, si racconta di questo emigrante, di questo scramare, il famoso scramare di una volta, che tornava d'oggi dall'emigrazione dopo finire la stadione, ma aveva fatto poche fortuna, praticamente non aveva lavorato, aveva poche per mantenersi. Tornando su a casa arriva finalmente il santo del monte di Giovo, fino a qui dove c'è il Cristo, da vecchio, è molto comore che è il Cristo, il Cristo di Giovo si sclamava. Allora qui si vede ora, provvedendo a minare, si ferma, in base del Cristo è una poissa, si ferma e si sente, mettendo la crassina, il bauco, la vela, il poi è in banda, al tira fura, aveva un sacco di tutta, un'alpa poi di mandare, aveva la ciacola come che dice il nuovo, aveva dentro un'unto, un prodotto così formale, durioso, insomma, andavano a mandare e si sente a mandare. E un po' che mandava, e un po' che chiamava il Cristo di Giovo. Mi ha dato mal che stiamo facendo, come ho tornato a casa, a passare l'inverno, la femmina, i fuzzi, la tira su e non hai portato nulla per noi, per vivere. E talmente ricalmandava con la villa Zagrimas e attrava il Cristo. E a un certo punto ho detto, no, cercherò un po' che con il Signore, incrogevano, ma signore, noi abbiamo avuto fortuna, ma anche mi hanno dato la grazia di poter essere in salute, di poter tornare in casa, sane, non male o morti, come succedeva a tanti che volte tanti emigranti, che morivano troppo al mondo, su serio. La fine di mandare, e dopo va via, si gira da un po' che aveva i denti, questa roba da mangiare, poi va via, si gira da un po' luciallo e metterlo via. Ma, diciamo, bene, i denti, talmente che questi denti avevano un pugno, un pugno così di dinti, di dinti da lato, come qui dei fuzzi che si aveva dinti da lato una volta, no? Talmente uscite le fuzzi che si era in spazzoletti, ci sono le tante le tante, mi chiamò hai detto, che c'era un comune, qui, ma qui, qui, poi, invece ha quella roba. C'era la tua, FM, c'era di scema di scema di scema di rimpiare, naturalmente, in scema di monta, la testa, insomma, l'uomo si dice, non c'era di restare, così, la parte l'uscita, con questa roba. A un certo punto la tua, a rinvolgere la si mette il sacchetto e ci chiede la crascia su Paschene alla salute del Signore, si fa il segno della croce e dopo il troico veniva da Monta e arriva a Taborgata di tirare la crascia e ci sono da lontani, i figli, i frutti, i figli i figli, 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 i figli e poi arriva a Taborgata e proprio fuori Taborgata era la femmina che l'ospedale che aveva sentito la sbosa e il fruzzo e poi tornò, tornò, tornò lui arriva a Taborgata con i bracci, i figli, i figli ma con l'amare dentro l'ospedale perché non sapeva c'è lì questa femmina e io sono con l'amare in Deola Zaglia all'avvio all'avvio a partire fuori questa maiusc questa fazzoletta che aveva la sacchetta da c'era i denti che è famosa di tutti ma io era pesante diventare un fazzoletto era pesante fa le scelle, le cese, questa roba qui all'avvio a partire fuori il fazzoletto e c'erano i denti che in tutti blanchi dal lato di Calais era diventata tutta la moneta di Daur e anche il ponte tutto il posto di Macroni no? lui è arrivato, è rinascato il nome di Alainal che vuoi verso il monte verso il Cristo di Gio all'assù che aveva fatto il miracolo che aveva fatto il nostro e che aveva fatto il nostro